Allora adesso vi chiedo ancora attenzione perché vi presento due persone importanti, una intervisterà l'altra e in questo caso abbiamo il professore di economia e gestione imprese dell'università di Bologna, Simone Ferriani, che intervisterà, pensate, un artista di fama internazionale, uno dei più importanti registi italiani, oltre a ciò è anche un imprenditore, ha fondato una casa di produzione, la sua storia è raccontata attraverso delle domande che sentiremo, quindi facciamo un bel applauso perché Simone Ferriani intervista Giorgio Diritti. Chiedo un altro microfono se possibile e lo do ai miei ospiti, buona mattinata, certo, prego, e vi lascio ovviamente a questa bella chiacchierata, se vi potete, vi potete anche accomodare, grazie, applauso. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, allora oggi ho l'opportunità di presentarvi, di fare una chiacchierata in questi 30 minuti con Giorgio, questa sessione si intitola Singolari Innovazioni e credo che il titolo fu mai più appropriato perché siamo veramente di fronte a un caso di singolarità e di innovazione, perché Giorgio è un regista cinematografico affermato ma il suo percorso professionale e artistico rappresenta a tutti gli effetti una singolarità, per una serie di ragioni che adesso andremo ad approfondire e indubbiamente rappresenta anche un'innovazione, un'innovazione dal punto di vista della sua poetica, della sua estetica e oltre ad essere un regista cinematografico, come vi ha anticipato la persona che ci ha presentato, è anche un imprenditore, è un imprenditore perché ha creato la propria casa di produzione, è un produttore e assieme a questo è un autore, un regista teatrale, un regista cinematografico, quindi veramente è una figura poliedrica del panorama cinematografico italiano che anche rappresenta un percorso imprenditoriale. Ho pensato, visto che abbiamo solo 30 minuti, di impostare questa intervista su alcuni temi che mi sembrava potessero essere vicini, diciamo così, agli interessi di chi tra voi deciderà un giorno magari di fare impresa, perché sono temi che caratterizzano il suo percorso artistico ma anche il percorso imprenditoriale. Quindi Giorgio, io partirei proprio da un tema a cui hanno accennato prima anche i relatori, che è il tema della tenacia e del coraggio di affrontare a volte anche dei no. Questo perché nei percorsi imprenditoriali, soprattutto quando si fa innovazione, molto spesso bisogna scontrarsi con un sistema che è scettico rispetto alle innovazioni, altrimenti non sarebbe innovazione, qualcosa che devia rispetto allo status quo, di solito genera scetticismo, resistenza, ostracismo e da qui poi c'è tutta la narrativa per cui la tenacia, la persistenza, la terminazione sono importanti. Giorgio, a questo proposito che cosa ci puoi raccontare? Grazie, ma innanzitutto buona mattina a tutti, complimenti a chi ha vinto, mi è piaciuto molto il filmato che ho visto, divertente, allegro, con una forza comunicativa diretta molto interessante. Il segreto, non c'è un segreto credo migliore nella vita che è nell'imprenditoria, dell'avere costanza rispetto alle proprie idee, di avere fedeltà alle proprie idee, sapendole mettere anche in discussione e avendo la capacità di superare l'ostacolo. Cioè una delle cose che sicuramente più accade è di trovarsi in condizioni in cui, ovviamente mi riferisco molto al mio lavoro, ci sono due possibilità, di porsi. Uno è quello di mettersi a servizio di un sistema produttivo e quindi di fare delle cose che sono, come dire, nell'interesse di un produttore, di una persona diversa, che chiede a voi di fare qualcosa che però è alla sua misura. Questo spesso vuol dire entrare in un meccanismo che non è detto che sia particolarmente creativo, è uno svolgere delle cose. L'altro invece è credere nelle proprie convinzioni, nella propria originalità, nella propria poetica, nella propria idea, nella propria determinazione, nella propria fantasia, nel proprio coraggio. Ecco, in questa chiave è fondamentale sapere accettare dei no e contemporaneamente sapere anche in certi casi dire no a quelle che sono le condizioni che non corrispondono al nostro interesse, alla nostra forza. Voi siete, probabilmente, ognuno di voi è la potenzialità maggiore per il cambiamento di qualcosa di positivo nell'ambito della società in cui viviamo. La grande scommessa è quella lì. Cioè capire come voi, nell'ambito del vostro rapporto col vostro lavoro, con la vostra identità, con la vostra creatività, potete essere utili al mondo. La dimensione di essere parte, diciamo, costruttiva del mondo è qualcosa che si trasformerà molto probabilmente anche in un meccanismo economico che vi darà soddisfazione. Spesso la condizione economica, almeno per quella che è stata la mia esperienza, ha dato risultati migliori dove c'è stata la determinazione e il rischio. Quindi, da questo punto di vista, la condizione del no, secondo me, è importante anche nel sapere dire di no. Nel mio percorso mi sono trovato che rispetto ai progetti che volevo fare molti produttori dicevano, ma sì, interessante, capisco, però un film così complicato, in epoche così lontane, che parla di una strage, ad esempio, che parla di cose della guerra, ma non sarebbe più interessante fare una commediola. Guardi, ho qui nel cassetto questa cosa qui. Ed è stato per me fondamentale la coerenza di saper dire di no. Coerenza. L'ho fatto anche per, voglio dire, non perché sia una persona particolarmente, come dire, dotata di coraggio in senso assoluto, ma semplicemente perché bisogna avere anche la capacità di capire che noi, nel momento in cui realizziamo qualcosa, se lo facciamo nella condizione che ci corrisponde, molto probabilmente daremo il meglio di noi stessi. Quindi per me fare la commedia, tra virgolette, voleva dire, magari mettermi in una condizione che è diversa dal mio modo di esprimermi. E invece cercare di realizzare i miei progetti è sempre stata la strada che poi li ha fatti diventare nella dimensione che ha anche dato un risultato dal punto di vista qualitativo ed economico. Hai altre domande magiche? Sì, ne ho diverse, guarda. Perché l'altra cosa fondamentale è questa. Adesso mi sono seduto e dicevo che c'è una pila. Perché una delle cose fondamentali che dovrete avere, e dobbiamo tutti avere, nell'ambito generale, della determinazione sul progetto della nostra vita, sia essa imprenditoriale, sia artistica, sia di qualsiasi tipo, è avere energia. Nel senso che energia psichica, energia di determinazione, energia di coesione nei rapporti con gli altri, energia di condivisione, che è una parola che poi a me è molto cara. A questo proposito, mi piace fare una chiosa, anche ricollegandomi a quello che hai appena detto e a quello che è stato detto precedentemente dai relatori. Indubbiamente c'è il tema del sogno, qualcosa che ci ispira, che ci guida nelle nostre scelte quotidiane, nella nostra progettualità. Però vorrei riportare un po' con i piedi per terra anche l'idea di fare impresa. Perché a volte il rischio è di perdersi nell'immaginario del sogno come qualcosa di assolutamente decisivo. Nel percorso ci si dimentica di quanta fatica, di quanto sacrificio è necessario fare per costruire un'impresa solida, sana, di successo. Proprio la dimensione del ogni giorno fare un piccolo sacrificio dovendo affrontare l'incertezza. Allora il punto è, ma come si fa quando si ha di fronte un orizzonte di incertezza? Perché nessuno veramente lo sa se un'innovazione funzionerà. Tutti i no che Giorgio riceve all'inizio, li riceve perché veramente sta cercando di portare sul mercato qualcosa di totalmente inedito, una novità assoluta dal punto di vista della comunicazione, delle scelte di linguaggio. Il vento fa il suo giro, è un film che prima di arrivare nelle sale cinematografiche ha dovuto scontrarsi con decine, centinaia di no a più livelli, a livelli artistici, a livelli produttivi. Quindi c'è il grande tema, ma come faccio? Di fronte a questa incertezza, perché non lo sa veramente nessuno se la vostra innovazione, se la vostra idea funzionerà, l'unico che lo sa è il mercato. Come faccio ad andare avanti? Come faccio a trovare l'energia per ogni giorno andare avanti nonostante tutta questa incertezza? E qui c'è un tema che è assolutamente centrale, a mio avviso, ed è molto collegato al tema del sogno, che è il tema della motivazione. Cioè che cosa ci spinge veramente dentro di noi a fare quello che facciamo? C'è un sogno, ma poi l'energia che ci sta dietro. E allora, nel libro L'uomo fa il suo giro di Giorgio, c'è una frase che mi è piaciuta molto, l'ho estrapolata perché vorrei partire proprio da qui e dalla riflessione che Giorgio fa a questo proposito. E lui ci dice perché lui fa cinema, no? Che è anche perché noi facciamo il nostro percorso professionale o di impresa. E lui dice, tra le motivazioni che muovono il mio modo di fare cinema, c'è senz'altro il desiderio di essere utile alla mia comunità, contribuire al miglioramento della vita degli altri. Partirei da qui. Quindi motivazione e il dare agli altri. Questo probabilmente perché nell'ambito dell'ambiente familiare, di vita, di formazione che ho avuto, questo sentimento, come dire, mi è stato trasmesso in un certo senso. E contemporaneamente credo e profondamente credo che sia uno degli elementi fondamentali per cercare di evolvere la società, il mondo. Cioè mi piace pensare questo, che ognuno di noi è una parte, diciamo così, del mondo e ha una sua presenza, e una sua dimensione in funzione anche di quello che può dare agli altri in senso di miglioramento, in senso di positività. Nel mio caso specifico credo che la logica che ha guidato il mio lavoro e che penso che sia nel lavoro di un autore e non solo regista nell'ambito del cinema è quella di dire io sono specchio. Cioè io posso offrire la possibilità alle persone, tramite le storie che racconto, di porsi in una logica di ascolto, di porsi in una logica di riflessione su quelle che sono le potenzialità rispetto al futuro. E quindi questo credo che sia appunto l'elemento che poi ha spinto. Tu senti che qualcosa in cui credi è utile agli altri e può migliorare la condizione umana. Nell'ambito di questo poi fossero poche persone, tante, non è detto quale sia l'impatto magari che il racconto che tu stai facendo o l'iniziativa che hai può avere, però sei sicuro e convinto che trasferisce qualcosa. Questo è un po' il motore che mi ha spinto, ma è una sensazione di speranza. Cioè credo è comunque che la società abbia una potenzialità di miglioramento. Se da un lato purtroppo vediamo ancora oggi quello che succede in Siria o in tante parti del mondo, vediamo una grande difficoltà alla sopravvivenza. Ancora oggi vediamo l'immigrazione che arriva per la fame, per la disperazione, eccetera. Quindi vuol dire che molte cose sono sicuramente da sistemare, che sono ancora da correggere, ma contemporaneamente abbiamo un'Europa dove in un certo senso dal 1945 ad oggi non abbiamo avuto delle guerre. Abbiamo una possibilità di comunicazione, abbiamo una possibilità di relazione, abbiamo una possibilità aperta di costruzione appunto di una società che ha dei valori importanti. Oggi forse ecco l'attenzione che si sta creando ci deve preoccupare, dobbiamo essere vigili. Ecco che allora anche il mio lavoro, il lavoro non solo il mio, moltissime sono le persone che secondo me in questo senso agiscono, è anche quello di dare una sensibilità al dire attenzione, le cose del passato magari che si raccontano, le tragedie vissute, vedi l'esperienza in particolare della vicenda di Marzabotto, sono comunque uno specchio per riflettere e per mantenere vigila un'attenzione alla memoria, che non è la memoria solo di ricordare e avere una forte sicuramente commozione, rispetto, affetto nelle persone che sono morti in quel tempo, ma è anche costruire memoria in un senso futuro e cioè far sì che queste cose non avvengano. Quando ho costruito, diciamo, il progetto del mio secondo film, quello che mi ha guidato principalmente è stato proprio questo sentimento, non fare un film storico, ma creare un qualcosa che raccontasse il valore della vita, che ne rendesse evidente la preziosità, l'assoluto, purtroppo nella contraposizione di un'ideologia, qual è stata quella nazista, che a un certo punto invece ha discriminato e ha stabilito che solo la vita del Cuni era valida ed era degna e quella di altri invece non contava niente. Quindi la motivazione è qualcosa di importante, ma è anche la motivazione nel voler, come dire, condividere, avere un gruppo da questo punto di vista qui, perché da soli poche cose si fanno. L'elemento della coesione, del team, delle persone con cui si condivide un percorso è altrettanto importante e fondamentale. Il mio primo film, di cui prima accennava Simone, è un'avventura dal punto di vista storico-imprenditoriale, come lo volete chiamare, incredibile, sono stati tantissimi no avuti da produttori, dalla RAI, eccetera. Perché un film che veniva girato in montagna, in un paese occitano, con una lingua di minoranza, che parlava di difficoltà di inserimento, eccetera, veniva considerato una cosa che non aveva interesse rispetto alle logiche del mercato. E di fronte a questi no, anche ai finanziamenti ministeriali, per due volte non è stato riconosciuto come un film di interesse, a un certo punto mi sono detto come posso comunque riuscire a realizzare questo mio progetto, questo sogno che credo sia importante. E ho incominciato a guardare le persone intorno a me e a chiedere alle persone attorno a me se credevano in quello che avevo scritto, nel progetto che avevo. E alcuni hanno deciso di crederci, hanno investito il loro tempo, la loro determinazione. Molte persone giovani sono state coinvolte nella troupe, siamo andati sul territorio, abbiamo chiesto a quella gente se aveva voglia di darci una disponibilità, e così ci hanno offerto le case, alcuni li ho scelti per fare gli attori. E da lì un po' alla volta si è creato appunto un senso di condivisione e comunità che ha reso possibile un'impresa che altrimenti non si poteva fare, perché un film è una cosa che costa moltissimo. Abbiamo fatto un po' di debiti in banca, ma insomma neanche tantissimi. E la nostra ingegnosità, spesso, è stata proprio data dalla necessità e dalla povertà. Anche questa è una cosa interessante. Cioè lì dove noi non potevamo avere i mezzi economici, abbiamo adottato quelle scelte, diciamo di strategia, di astuzia, che permettevano di ottenere un risultato. Adesso molti di voi probabilmente non hanno visto il film, e questa cosa, magari da spiegarla diventa un po' macchinosa, però nel film a un certo punto c'è una situazione in cui, in una scena, ed è una cosa pratica, ve la racconto perché magari è anche più interessante, c'era la necessità di avere un maialino morto. Allora, questa cosa, un maialino morto in putrefazione. Allora da questo punto di vista qui, chiedendo a Cinecittà, Roma, oppure ad altri studi che fanno di solito queste cose, il rifare questo animale che voleva dire spendere 4.500 euro. Allora, per la nostra piccola troupe, che viveva in questo paesino isolato in montagna, 4.500 euro erano la sopravvivenza economica per mangiare una settimana, quindi non potevamo assolutamente permetterci un costo così alto. Qualcuno ha avuto la brillante idea di dire, ma qui in Piemonte, dove appunto abbiamo girato il film, ci sono molti allevatori di maiali, sicuramente qualche uno di questi morirà di cause naturali. Allora abbiamo cercato gli allevatori, abbiamo chiesto e abbiamo prenotato, tra virgolette, il primo maialino morto, che, insomma, per cause naturali, eccetera. Quando questo è accaduto l'abbiamo messo in freezer e l'abbiamo tirato fuori il giorno in cui abbiamo fatto la scena. Allora, questa è una cosa, se volete, molto banale, ma è lo spirito comunque di un approccio nei confronti del lavoro che vuol dire che l'ingegnosità e il rapporto di gruppo possono dare moltissimo a un risultato, possono aiutare a creare qualità. L'avventura del vento, al di là di questa cosa qui, è anche quella di un film che poi, nell'ambito della realizzazione finale, viene comunque ad essere riconosciuto a livello internazionale e ha un percorso anche poi di distribuzione totalmente anonimo, nel senso all'inizio, dove non c'erano promozioni, eccetera, ma che invece, nell'arco del tempo, diventa un'occasione di grande soddisfazione per tutti noi che ci abbiamo lavorato, sia per i numeri economici che per altro. Fate attenzione a questa riflessione, ragazzi, perché, se ci pensate bene, il processo imprenditoriale, soprattutto per ragazzi come voi, che sono all'inizio, quindi che non hanno ancora credibilità, soprattutto non hanno risorse, si dice sempre, ma i soldi, questa è una classica storia di un percorso imprenditoriale che nasce senza raccomandazioni, senza risorse iniziali, quindi richiede un grande ingegno per supplire la mancanza di risorse, non ci sono relazioni con i centri di potere, è veramente una storia imprenditoriale che nasce dalla volontà, dal desiderio, dalla motivazione, dalla determinazione di un gruppo di persone che crede nei propri obiettivi. Tu, Giorgio, parlavi dell'importanza di avere fiducia totale nelle persone che, assieme a te, decidono di intraprendere questo viaggio. E anche questo è un tema importantissimo. Ragazzi, avete visto che chi è stato premiato oggi sono sempre stati dei team, dei gruppi. Per fare impresa bisogna essere in gruppo. I risultati si portano sempre a casa in gruppo. E chi investe in progetti imprenditoriali innovativi, c'è questo detto, per cui i cinque criteri che si guardano quando si decide se investire o no in un progetto imprenditoriale sono questi. Gruppo, 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 idea e mercato. Cioè, il team veramente fa la differenza. Allora, anche a questo proposito, io ho trovato una frase molto significativa che richiama un po' il tuo modo di lavorare, ma che è anche molto vicino, diciamo, al tema imprenditoriale del team, come punto di partenza su cui costruire la progettualità. E tu dici, scrivi nel tuo libro, Le relazioni più importanti nella nostra vita sono quelle affettive e hanno la caratteristica di accompagnarci per un lungo cammino. Il mio desiderio è ricreare questo stesso meccanismo nell'ambito di quel che faccio. Senza contatto, senza scambio di valori e accoglienza, non può esserci sviluppo umano e qualità dell'esistere. Quindi la relazione, la costruzione di una relazione con gli altri, come base per creare valore. un tema che mi sembra molto bello. Sì, penso che sia la base, poi è la base forse anche della condizione umana, nel senso che se pensate allo sviluppo di quella che è l'umanità, nel ceppo iniziale della famiglia comunque c'è questo concetto, cioè molto concetto, sulla base è una dimensione affettiva che poi si sviluppa un progetto che diventa un progetto di esistenza, è un progetto di relazione e di evoluzione. Altrettanto, nell'ambito di quello che è il lavoro, io credo che la condizione utile per riuscire ad arrivare a dei risultati è sovente proprio quella di un legame passionale, affettivo, sia con le persone con cui si condivide il percorso, che sia rispetto all'obiettivo che si fa, che si vuole raggiungere, scusate, perché in quello, a mio avviso, c'è la possibilità di avere una soddisfazione. Ciò che ci piace è ciò che molto probabilmente ci fa star bene ed è comunque quello che quindi ci rende nel percorso che stiamo facendo un risultato possibile, ci dà la soddisfazione. Si potrebbe dire un po' semplicisticamente, se volete, che l'obiettivo è essere felici. Cioè la realizzazione del vostro sogno di vita, la realizzazione del vostro sogno di impresa, se volete, se deciderete di fare questo percorso, è molto vicina a una condizione, cioè avere il senso di compimento di se stessi in una dimensione di, vorrei dire, di felicità, che non vuol dire non soffrire, non attraversare dei momenti difficili, non avere dei percorsi travagliati, ma avere un rapporto con le cose che state facendo che appunto è di tipo affettivo. Cioè sono parte di voi, sono voi e il vostro team, le persone che sono con voi, in un certo senso altrettanto lo sono. Questo, secondo me, modifica l'approccio a quello che si sta facendo e modifica anche, in senso positivo, il rapporto tra la società. Una delle cose interessanti dell'evoluzione tecnologica oggi è la possibilità di entrare in relazioni con molte persone. E questo è un grandissimo salto in avanti, potenzialmente. L'importante è che in questo voi sappiate creare e scegliere le persone, le relazioni, i rapporti che vi aiutano ad evolvere il vostro io, mi viene da dire. Cioè a stare bene. C'è create delle sinergie che non sono utilitaristiche, ma che sono evolutive. E cioè in una logica in cui la compartecipazione dell'altra persona con voi e viceversa porta a qualcosa di più. C'è un esempio molto pratico, banale, che ogni tanto faccio rispetto a che cosa vuol dire anche essere impresa, un uomo da solo anche nella preistoria, pur con la più grande genialità, potenzialità, di fronte a un grande masso non riusciva a spostarlo. Solo grazie all'aiuto di altri tre, quattro uomini ha avuto la forza e la possibilità per spostare quel masso e magari creare una strada. Quindi l'elemento di coesione, secondo me, l'elemento di socialità, l'elemento di rapporto con gli altri per la realizzazione del vostro sogno è importante. Ed è importante che questa cosa passi attraverso appunto un'emozione, un'affettività. Se posso darvi un consiglio nel rapporto di chi di voi magari un giorno non sarà imprenditore dico questo, non pensate mai di usare gli altri, di avere un atteggiamento tra virgolette utilitaristico, furbo, strumentale, perché anche il vostro risultato di impresa alla fine sarà solo quello. E quindi molto probabilmente le persone intorno a voi saranno deluse, frustrate, insoddisfatte. Ma abbiate un rapporto franco dando il meglio di voi stessi dal punto di vista di quello che siete dicendo come per tornare alle mie prime esperienze noi siamo qui, ai collaboratori dicevo io sono qui, non abbiamo grandi risorse, quasi niente, però c'è questo progetto scritto, se chiedi in questo progetto noi avremo la possibilità di darti da mangiare, da dormire e una partecipazione sugli utili di questo film. Ecco, questo credo che sia l'approccio al di là del mio esempio, cioè quello di far sì che ci sia il piacere di fare qualcosa assieme, di condividere un'esperienza che serve a noi, che serve al gruppo in cui siamo, che fa sì che questo gruppo si senta parte di una società in cui il proprio lavoro, la propria identità sono utili, servono a migliorare il mondo. Credo che da questo punto di vista sia importante anche la misura del tempo, non abbiate fretta mi viene da dire, non abbiate l'urgenza e la smania di avere subito quel sì che vi serve per stare bene. Tante volte è necessario attendere. Non so cos'era, però un bel fulmine. Quindi dicevo è importante anche questo, avere la capacità di attendere, di pensare. Quelle che sembrano nei famosi no dei momenti di disperazione, prima si parlava, ho sentito parlare dei cosiddetti fallimenti, sono preziosi, sono il vero arricchimento. Nel momento in cui voi vi trovate in una condizione di difficoltà, il vostro cervellino si mette in movimento, le vostre relazioni si mettono in movimento per cercare soluzioni diverse, strade differenti. E quindi dovete sempre e comunque avere fiducia. abbiamo cinque minuti, vorrei chiudere con un flash su un altro tema che trovo molto bello e molto in linea diciamo così con la vostra età, che è il tema della sana follia, diciamo così, perché voi avete un enorme vantaggio rispetto a persone che non sono della vostra generazione, della mia generazione, persone più grandi. Voi avete quella sana sfrontatezza che è figlia della vostra età. Perché dico questo? Perché per perseguire dei progetti ambiziosi, i vostri sogni, delle grandi innovazioni, serve anche un po' di sana irragionevolezza. C'è una frase molto bella di George Bernard Shaw, il drammaturgo, che mi piace spesso ricordare, e lui dice questo, che proprio secondo me cattura esattamente il senso dell'essere innovatori. Dice l'uomo ragionevole si adatta al mondo, l'uomo irragionevole adatta il mondo a se stesso, dunque il progresso non può che dipendere dall'uomo irragionevole. Perché è solo l'uomo irragionevole o con quella sana dose di follia che a un certo punto decide, invece di continuare ad adattarsi a un mondo che magari non gli va bene, di mettersi in moto per quel mondo cambiarlo. Sono poche le persone che lo fanno, sono appunto gli innovatori, ma se non ci fossero gli innovatori non ci sarebbe il cambiamento. E allora, siccome nel vento fa il suo giro e il protagonista dice proprio questa battuta, dice io penso che nella vita ogni tanto bisogna fare qualche follia. Vorrei partire da qua per fare una chiusa poi di questa intervista visto che avevamo 30 minuti e stiamo già quasi sforando. Fare qualche follia. è tutto. Io credo che fare qualche follia non vuol dire essere scriteriati e tra virgolette suicidi nelle scelte perché poi bisogna il qualche e la follia sono come dire legati e credo che sia fondamentale. La follia è la dimensione del coraggio cioè intesa come coraggio nel credere in noi stessi nell'avere la determinazione e la capacità di dire vabbè io comunque se da un lato sento che delle persone credono in me vuol dire che c'è qualcosa di buono e vado avanti avere la capacità di intuire che tante volte anche nella storia dell'umanità purtroppo molti che hanno avuto idee straordinarie e talmente avanti si sono trovati a non essere riconosciuti se non dopo generazioni con dei premi alla memoria quindi bisogna avere io credo proprio la voglia di lasciare fluire la mente e in questo veramente tante volte l'essere in gruppo fa la differenza perché l'essere in gruppo ti dà la misura della bontà della tua follia se rispetto alla tua follia c'è una partecipazione una condivisione vuol dire che la tua follia non è solo un sogno un po' utopistico oppure qualcosa di campato per aria ma ha un senso comune per la società ha un senso comune anche per gli altri se ce l'ha anche per gli altri questi altri poi si allargano rispetto al cinema quando e quindi che è il mio lavoro principale io dico quando le persone a cui racconto una storia la sentono propria e mi dicono se vuoi ti do una mano vuol dire che quel progetto ha qualcosa di interessante se mentre lo racconto si addormentano oppure non sentono dicono ah sì mi sembra di aver già visto questa cosa vuol dire che probabilmente non c'è quella materia quella forza quell'energia giusta per avere un progetto utile al mondo io credo che una delle parole anche che se vogliamo è un po' larga come concetto però è importante nella dimensione dell'evoluzione e del risultato di impresa del risultato della soddisfazione personale è l'utilità anche perché l'utilità è quella che fa sì che appunto ci sia poi una condivisione beninteso ciò vale per un'app come quella che abbiamo visto prima per gli animali ciò può valere per la per la grande invenzione tecnologica per l'invenzione diciamo nel biomedicale ma vale anche nell'ambito culturale perché la dimensione di quello che è un pensiero che muove altri pensieri è una ricchezza la dimensione di un film che riesce anche solo a farti passare due ore facendoti divertire ha un'utilità è utile al mondo perché scarica una dimensione di eccessiva tensione di fatica quindi la parola utile secondo me è molto molto preziosa nella valutazione poi di quello che è il percorso di quello che stiamo facendo nella vita se una cosa è utile darà il suo frutto ci vorrà del tempo ci saranno delle difficoltà ma se una cosa è giusta ed è utile arriva il risultato come dicevo prima il percorso se un giorno magari con più tempo ci sarà occasione o avrete voglia di curiosare nelle storie in internet riguardanti il mio primo film il percorso è stato lunghissimo ma il senso di utilità di quel racconto che parlava di problemi e tematiche universali è qualcosa che l'ha fatto camminare l'ha fatto andare in più di 70 festival in giro per il mondo ricevere moltissimi premi più di 40 l'ha fatto camminare in sala quando nessuno lo voleva distribuire avendo dei risultati anche dal punto di vista economico importanti ma questo non perché l'ho fatto io ma perché quello che raccontava quel film era utile alla società al mondo ci portava una riflessione bene ragazzi siamo in chiusura dovevamo chiudere alle 11 e mezza direi che ci siamo in pieno ci hanno fatto già un cenno dalla lo staff grazie dobbiamo stringere andiamo via siete stati perfetti un grande applauso e poi molto interessante salutiamo Simone Ferriani e Giorgio diritti e soprattutto li ringraziamo per un motivo ehi sono qua a sedere bravo no dicevo li volevo ringraziare a nome di tutti per questo perché non è semplice cogliere il DNA di un artista e sto parlando ovviamente di Ferriani e poter dare a lui la possibilità di esprimere dei concetti su una domanda questo è un binomio che normalmente vi consiglio di fare delle reading in giro perché funzionano ci stiamo specializzando bravissimi bravissimi un bel applauso complimenti ciao a tutti buona giornata e grazie di questo invito